Per dire che è quello che Stefano Puzzer fa da tempo, c'è un signore che ovviamente non vuole farci riprendere l'audio E ce la prende con il nostro microfono e non vuole annunciare La gente come noi, la gente come noi, la gente come noi La gente come noi, la gente come noi Va bene, va bene, va bene, Luca, richiedici tu la linea quando puoi Vedo che c'è un signore che ti si avvicina pericolosamente in maniera aggressiva Grazie, molto gentile, stiamo solo lavorando Ma proprio da niente, guardi, stavamo prendendo l'audio La piazza non facilissima di questa, Stefano Insomma, un po' di nervosismo, poi noi giornalisti siamo diventati mal sopportati evidentemente, no? Sì, aspetta, ci chiamano, vediamo cosa succede, Stefano Vediamo, vediamo Sì, però siamo tutti un po' troppo vicini qua Ah, possiamo riprendere, tranquillamente Ah, possiamo riprendere, allora? No, perché ci allontanavano invece Puzzer, può venire un attimo? La 7? No, 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 non va Comunque, c'è chi ci chiede di avvicinarci E chi ci dice invece, meglio che state lontano Professor, preghiato